Oggi presentate questa iniziativa Adotta un Bosco, un'iniziativa più che mai attuale considerando tutto quello che sta accadendo nella nostra regione sul fronte degli incendi. Sì, abbiamo monitorato gli incendi dal 1 di giugno al 29 di agosto grazie ai nostri dati di rilevamento satellitare multisensoriale in ambienti GIS quindi perfettamente calabili nella cartografia esistente e abbiamo potuto notare di come l'Abruzzo sia stata devastata ma sia stato devastato non solo sotto il profilo della distruzione del patrimonio agronomico e forestale ma anche e soprattutto per quelle che sono le emissioni di CO2 in atmosfera a causa di questi eventi pirologici. Abbiamo portato due esempi campioni, Campo Imperatore e il Morrone abbiamo calcolato che per riparare a questo danno occorrono migliaia di ettari ma non di rimboschimento come vuole la regione Abruzzo ma di gestione sostenibile della foresta e soprattutto abbiamo potuto notare di come la biodiversità distrutta sia stata notevolissima. Noi chiediamo di misurarsi sul campo delle azioni, sul campo del fare quindi non solo sul governo delle relazioni chiamo il ministro, chiamo questo, chiamo quello e poi i mezzi non arrivano o arrivano tardi ma sul governo del fare che si misura attraverso una serie di azioni, di prevenzioni e di ricostituzione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale che non passa attraverso il rimboschimento tra l'altro vietato dalla 353 del 2000 anche se talvolta sono consentite delle deroghe ma attraverso una serie di misure idonee a fare in modo che la compensazione di CO2 a scala locale e la ricostituzione della biodiversità sia possibile attraverso interventi mirati. Adotto un Bosco punta essenzialmente a questo in collaborazione con Resgea che è uno spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti del Dipartimento di Geologia e insieme al PEFC del professor Antonio Brunoni che ne è il segretario nazionale e che è tra l'altro il maggior ente di certificazione di gestione sostenibile delle foreste abbiamo pensato di chiamare a raccolta tutti gli stakeholder abruzzesi tutte le aziende abruzzesi affinché possano adottare un nostro bosco adottare un bosco non significa fare rimboschimento ma ad operarsi per una gestione sostenibile del medesimo creare delle linee tagliafuoco dotarsi di mezzi antincendio favorire dei corsi di formazione per i volontari la Regione Abruzzo purtroppo spesso fa relazione ma non fa governo e noi temiamo che il non governo si vede in questi giorni noi temiamo che questo non possa essere il futuro della Regione Abruzzo e il futuro della Regione Abruzzo passa attraverso la programmazione grazie a tutti